Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Poliservice ha riconfermato Direttore Generale Gabriele Ceci ed ha nominato Vice Presidente Giovanna Barbarese. Dopo la riconferma alla guida della Governance di Giovanni Antelli, il Consiglio di Amministrazione ha scelto dunque una donna come numero due della S.P.A. Giovanna Barbarese ha un trascorso politico a Nereto e è stata Vice Sindaco nella prima amministrazione di Giuseppe Fagotti negli anni 90. Con la nomina di Barbarese abbiamo raggiunto il giusto equilibrio di genere, ha commentato il Presidente Antelli ed il nuovo Consiglio di Amministrazione, anche in questo caso fatto di figure competenti, può riprendere il proprio cammino fruttuoso per il bene della società partecipata dai comuni e della collettività servita. Soddisfatto per la riconferma anche Ceci, la cui attività tecnica negli anni ha portato a raggiungere risultati e performance gestionali importanti. Ceci è in Poliservice dal 2004, quando assunse il ruolo di Presidente e Direttore della società per diverso tempo, prima della nuova Governance e della separazione fra i due ruoli. Più di una volta è stato sottolineato in Poliservice come il lavoro in tandem tra Presidente, Consiglio di Amministrazione e Direttore Tecnico abbia portato a raggiungere salute economica, investimenti costanti, miglioramento dei servizi, risparmio e una sana gestione operativa.